Tornavano da una serata di divertimento, rientravano a casa di certo spensierati, ma la tragedia ha spezzato le loro giovani vite. All'alba un'auto con a bordo tre ragazzi è finita fuoristrada sulla provinciale 580, quella che collega Ginosa a Ginosa Marina. In corrispondenza di una curva, l'auto, una Mini Cooper, si è ribaltata più volte e poi ha finito violentemente la sua corsa. Non c'è stato scampo per Vito Di Zozza, 26 anni, di Ginosa, e Stefano Clemente, 24 anni, di La Terza. All'arrivo dei soccorritori per i due giovani non c'era già più nulla da fare. Il terzo ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale a Castellaneta. Per ricostruire la dinamica sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Ginosa. Bisognerà comprendere perché chi era alla guida abbia perso il controllo dell'auto, se si sia trattato di un colpo di sonno oppure di un ostacolo improvviso. Le comunità di Ginosa e La Terza intanto si stringono attorno alle famiglie delle giovanissime vittime della strada.